Buonasera professor Zangrillo, il professor Galli ha detto che vuole togliersi dei sassolini dalla scarpa contro chi in questi mesi ha minimizzato il virus. Allora, voglio dirla in maniera chiara, perché io mi sono anche un po' rotto le palle di sentire il professore col bargiglio che mi attacca, tutte le mattine, col suo orribile canto, svegliando tutta la fattoria mediatica, perché non sopporta che professori di un certo livello primeggino nel pollaio scientifico. Io da sassolino quale sono, sassolinamente parlando, non ho mai minimizzato niente, io parlo per le evidenze che conosco e le dico in maniera chiara che a Sant'Ambrogio nevicherà. Ma come fa a dirlo, scusi? Beh, mi sembra abbastanza chiaro che avendo detto in maniera chiara da medico di un certo livello, che prevedere la seconda ondata era come prevedere che a Sant'Ambrogio avrebbe nevicato, è evidente che se dico che a Sant'Ambrogio nevicherà, ci sarà... La seconda ondata. Puttana Eva se ci sarà, altro che seconda ondata parlerei di tsunami di un certo livello. Sì, però lei l'aveva negata la seconda ondata. Forse avrò sbagliato nel modus, forse ho sbagliato il meteo, ma oggi è evidente che nel periodo estivo io tendo a far roteare la lingua a modus stonato e quindi ombrellonamente io tendo a dire una vagonata. Sì, va bene, va bene. Quello che noi medici in un certo livello pariginamente definiamo conerie, a Milano si direbbe pirlate. Vabbè, va bene, ha fatto il mea colpa e di questo insomma le rendiamo onore, però cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Guardi, lo voglio dire in maniera chiara, basandomi sui dati. Allora, il Natale panettonamente e parentelamente non esiste più. Non lo facciamo, va bene. Il Capodanno spumantemente e treninamente è morto. È morto anche il Capodanno. Aggiungo che la Befana quest'anno invece che portarsi via solo le feste porterà via tutti. Scusi, però adesso così è tanto negativo, no? In fondo, tra l'altro, i suoi pazienti sono guariti. Guardi, sono guariti perché sono venuti da me tempestivamente. È vero, lei l'ha sempre detto. E io, guarda casamente, avevo questa. Cos'è? Cos'è? Questa è una dose di Remd Elisir. Con questo si guarisce assolutamente. Ho capito, ma è disponibile per tutti? No, lo dico in maniera chiara. Sì. Questa è una fialetta cuvero aialmi desimata. Ho capito. Riservata solo ai pazienti Gold del San Rafael. Va bene, infatti, l'impressione, mi scusi, è che possano guarire rapidamente solo i privilegiati che vengono ospedalizzati subito. Tutti gli altri devono aspettare di aggravarsi a casa. E veda, buon uomo, questo è il famoso distanziamento sociale. In che senso? I ricchi di qua, i poveri di là. Il sistema... Più sono distanziati, più l'eccellenza sanitaria lombarda riesce ad essere tempestiva con quelli di qua. Eh, appunto. Va da sé che quelli di là sono più di là che di qua. Ho capito. Senta, va bene, però cambiamo discorso. Ho letto che lei, Galli, e la coppia Fedez-Ferragni siete in lizza per l'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza di Milano. Intanto la devo correggere perché la massima onorificenza di Milano è essere zangrillo. Vabbè, adesso non... E comunque, per dimostrare che non nutro alcun rancore verso i sedicenti colleghi, cedo volentieri la vittoria dell'Ambrogino ad una persona competente, stimabile e generosa che tanto ha fatto per l'eccellenza lombarda. Oh, bene, cede l'Ambrogino d'Oro a Galli. No, no, l'Occedola Ferragni. Galli è solo un piccolo influencer.